bambini siete arrivati al vostro albero dei lavoretti e avete trovato questa bustina col vostro segno guardiamo che cosa c'è dentro è un minuto perché guardiamo allora qua siamo dunque trovate qua cascate tutte le parti quindi prestate attenzione allora trovate una molletta con un pompon qua sopra e due braccine mettiamole così poi trovate due di questi ferrettini strunfuglini come si chiamano non lo so comunque due colori e poi trovate due occhietti guarda qua due occhietti sono svirgilati come quelli della smemorina e dei corallini guardiamo bene adesso che cosa dobbiamo fare a corallini te l'ho detto sì guardiamo cosa fare ecco che prendo questo qua lo piego a metà è così legato a metà ok ora lo appoggio circa la metà di questo e faccio uno schiripizzo qua lo sbirgiulo capito sbirgiulo così poi lo appoggio qua sotto sotto il mio pompone guardate sotto il pompone e qua dietro prendo dietro il pompone e gli faccio un'altra sbirgiulata così vedo di prendere dietro il pompone trick vedete come due antenne ora prendo quest'altro faccio un cerchio con una x sbirgiulo la x così faccio un cerchio chiuso a quel punto faccio un 8 piego così e faccio un'altra sbirgiulata eccoci qua lo appoggio qua e inizio a prendere questi due braccini uno di qua e uno dall'altra parte così a x avete visto eccoci così questo sotto invece lo allargo bene e faccio anche qua un altro 8 che sbirgiulo tricchete e tricchete di qua ecco così questi braccini gli sbirgiulo ancora un pochettino cioè li giro un po sopra un po sotto insomma vedete voi come volete metterli io li metterei così a x in modo da tenere tutto quanto bello unito ecco qua quando vedete che è unito va bene in qualsiasi modo voi lo facciate l'importante è tenere uniti i due scovolini colorati ed eccoci qua adesso la sistemiamo bene ecco a questo punto leviamo gli occhietti e mettiamo i corallini ecco qua è finito il nostro pinza disegni perché vedete qua c'è una mollettina io ci pinzo i miei disegni ah ma guardate cosa è rimasto sul tavolo questi due pezzettini qua e qualche corallino che non ho utilizzato allora li prendo li metto dentro nella bustina e li rimetto dentro nella nostra cartelletta rilasciamo la nostra bustina dentro nel nostro zainetto che così lo recicliamo dopo averlo ovviamente accuratamente disinfettato ma attenti bene adesso voi per la vostra caccia al tesoro mi dovete scrivere che cosa avete costruito vi do un indizio non è un coccodrillo